O arriviamo alla parte a me molto cara che è quella della proprietà intellettuale. Io come vi ho anticipato vengo da lì, nel senso che mi sono sempre occupato di licenze, di termini d'uso, contratti di gestione del diritto d'autore e anche su questo piano abbiamo delle novità legate appunto alle ultime politiche, le più recenti politiche dell'Unione Europea verso un nuovo diritto d'autore. Perché ovviamente sta cambiando il mondo, sta cambiando il modo in cui vengono fruite e diffuse le opere dell'ingegno. Già il fatto che stiamo passando a un mondo che è totalmente digitale e totalmente interconnesso rivoluziona non da poco perché il copyright, diritto di fare copia perché letteralmente copyright vuol dire diritto di copia, deve stare in piedi in un mondo in cui la copia, scusate, la copia paradossalmente non esiste più. Perché è una copia evanescente. La copia digitale non è la copia come la si intendeva nel mondo analogico, che è il mondo in cui è nato il diritto d'autore e il copyright. No, cioè chi ha i cappelli grigi come me se la ricorda quella parte, quel mondo lì, quella parte di gioventù in cui ti facevi prestare il cd dall'amico o per farti la cassettina audio oppure ti facevi prestare, duplicavi il vhs ed era più brutto. Oppure registarvi il film dalla tv per averlo su vhs. Cioè erano chiaramente delle copie brutte, di qualità più bassa rispetto all'originale. Un problema è che ovviamente nell'ambiente digitale non si pone più perché la copia non è neanche una copia tecnicamente, è un clone, è un file duplicato su un'altra cartella. Con una risoluzione quasi sempre ormai a un livello tale per cui l'occhio umano non distingue la risoluzione bassa rispetto a quella alta, come è avvenuto nei primi anni di internet per cui ti scaricavi l'MP3 da Emule e sì lo sentivi male però ti accontentavi. Adesso manco quel problema lì c'è perché è tutto ad alta risoluzione, abbiamo una banda sufficiente per fare qualsiasi cosa, per vedere i film quando vogliamo, ci basta collegarci a vedere qualsiasi cosa. E cambiano quindi le modalità di fruizione, le modalità di distribuzione delle opere, le sfide per il diritto d'autore sono molto nuove ogni anno, a seconda della nuova tecnologia che esce. Questa qua dell'intelligenza artificiale è stata veramente un fulmine a ciel sereno perché ha imposto al mondo del diritto d'autore un ripensamento completo e totale del concetto di creatività. Cioè una cosa che prima aveva sempre bisogno di una mediazione, un costante intervento umano, adesso vengono fatte davvero con una ampia autonomia da parte della macchina, da parte di un software e l'essere umano non fa altro che dare un input e scegliere qual è l'output che gli piace di più. Quindi lì davvero ci si interroga se ci sia davvero una creatività umana o se stiamo entrando in un mondo diverso. Fatto questo preambulo, dal punto di vista puramente normativo, noi avevamo una direttiva che ormai era vecchia di vent'anni, l'ultima sul copyright digitale era del 2001, questa è la direttiva 2001-29, chiamata appunto direttiva sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. Perché già nel 2021 si parlava di società dell'informazione, quindi era all'epoca una direttiva abbastanza avanzata. Ma voi pensate che cos'era la società dell'informazione nel 2001 rispetto a quella già del 2012-2013 con l'esplosione delle piattaforme social e la diffusione degli smartphone in mano a tutti i soggetti e la banda larga? Cioè è veramente una cosa che non potevano immaginarsi quelli che hanno scritto le regole, le norme nel 2000-2001. E allora a un certo punto si è fatto notare che c'era bisogno di un cambio di passo, di una nuova direttiva ed eccola qua. Nel 2019 sono state approvate in realtà due direttive, quella più importante, quella che ci interessa di più è la seconda, la 790, che si chiama direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che appunto va a modificare le direttive precedenti, una è la 96 CE che è quella su, la numero 996 che era quella sulle tutele delle banche dati e una è quella precedente che vi ho citato prima, la 2001 numero 29. Vedete, nel mercato unico digitale, perché questo è un po' l'obiettivo dell'Unione Europea in questo quinquennio, cioè creare il più possibile un unico mercato digitale tra i 27 paesi dell'Unione Europea. E questa è una sintesi un po' delle novità che trovate nella direttiva, anche lì non lasciamo leggere tutta nel dettaglio, però abbiamo ad esempio, ecco, creato questo, i temi più dibattuti sono questi, il 15 e il 17, cioè gli articoli 15 e 17. Uno è la creazione di un nuovo diritto, che potremmo chiamare diritto connesso, a favore degli editori delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online, sorretto da un ecocompenso, cioè si crea un diritto che serve a permettere, diciamo, di remunerarsi alle case editrici che fanno giornali, sostanzialmente siti di informazione, in tutti quei casi in cui ci sono dei crawler di notizie, cioè dei soft, delle piattaforme che prelevano e fanno delle anteprime di notizie, ad esempio Google News o anche quello che fa Facebook quando replica in uno snippet la notiziola, no? E cosa succedeva? Succedeva che ormai gli utenti non andavano più sul sito di Repubblica di Corriere della Sera di sole 24 ore, perché si accontentava dello snippet che era una sorta di estratto fatto automaticamente sulla base di un feed RSS da questi crawler di notizie. E allora, grazie a questo diritto, chi fa un crawling di notizie, chi replica notizie in questo modo, deve versare un ecocompenso, cioè deve accordarsi con le associazioni di rappresentanza degli editori e versare questo compenso. La domanda che sorge in questi casi sempre è, ma agli utenti cosa cambia? Gli utenti, boh, per adesso non si è ben capito, perché non sappiamo poi quali sono gli accordi che intercorrono tra i vari Google, Facebook, Twitter, con le associazioni degli editori e quindi può essere che gli editori abbiano consentito di continuare a fare questa attività a fronte di aver ricevuto, perché hanno ricevuto poi un versamento da parte di questi grandi player che ovviamente raccolgono, drenano tutta la pubblicità, drenano tutti gli introiti e non lasciano quasi più nulla agli altri. A coloro che poi tra l'altro creano davvero il contenuto e che investono nella creazione del contenuto che sono gli editori. Un'altra novità importante che ci è portata dalla direttiva è quella di una ridefinizione della responsabilità dei cosiddetti service provider. No, noi abbiamo nella direttiva precedente un principio generale di non responsabilità del service provider, cioè il service provider, parliamo di ad esempio YouTube o anche di TikTok, rimangono non responsabili delle violazioni che vengono fatte in materia di diritto d'autore sulla loro piattaforma se appunto si comportano da meri service provider, cioè loro mettono solamente a disposizione la piattaforma su cui si fanno cose, ma non devono entrare nel merito dei vari contenuti che vengono caricati, entrano nel merito solo nel momento in cui c'è una segnalazione da parte di qualcuno che reputa che ci sia stata una violazione di copyright. Ecco, questo principio è stato un po' ammorbidito e ribilanciato, tant'è che la direttiva non parla più di service provider, ma parla di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, perché effettivamente YouTube è una piattaforma che è fatta apposta per condividere contenuti online dei video, e impone loro, vedete, di istituire un meccanismo di reclamo celere ed efficace che sia disponibile agli utenti dei loro servizi in caso di controversie, quindi dovrebbe in teoria rendere un po' più equilibrata la gestione del copyright su queste piattaforme, anche lì è ancora presto per dire che cosa succederà, perché? Perché, come vedete, la norma di recepimento italiana è arrivata un po' tardi, perché il limite era giugno del 2021, quindi la direttiva è del 2019, aprile, e dava tempo fino a giugno, 7 giugno, mi ricordo, del 2021. È successa, è arrivata la pandemia, in quegli anni, probabilmente in quei mesi, c'era una cosa più importante a cui pensare, per cui non siamo stati gli unici ad andare lunghi con il recepimento di questa direttiva, e l'Italia è arrivata, davvero in questo caso un po' tardi, però 6 mesi dopo, a novembre del 2021, con questo decreto del 177 del 2021, che è andato a cambiare una parte consistente della legge sul diritto d'autore nostro. Noi abbiamo una legge che è la 6-3 del 1941, che ovviamente non è rimasta uguale a se stessa dal 1941, è già stata più e più volte cambiata e aggiornata, però, ecco, quest'ultimo aggiornamento è stato uno dei più cospicui, circa il 15% è stato o modificato o aggiornato o riscritto completamente. Rimane questo neo incomprensibile del, vabbè, di come è stato attuato l'articolo 14 della direttiva, ve lo lascio scoprire, ci sono i miei video interi su questo tema che spiegano il problema, cioè sulle riproduzioni delle occhile dell'arte visiva, e, tra l'altro, in occasione di questo decreto che ha recepito la direttiva, il legislatore italiano ha attribuito nuovi poteri in materia di diritto d'autore anche all'Agicom, che è l'autorità per la garanzia delle comunicazioni, tra cui, ad esempio, la determinazione del famoso ecocompenso per l'utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico, quelle che vi citavo prima. Quindi, quanto bisogna versare, quanto i vari YouTube, Twitter, Facebook devono versare agli editori di giornali, lo stabilisce l'Agicom. Se non ci sono altre domande sulla parte propria...